Si apre domani all'Aquila il processo d'appello per la tragedia di Rigopiano dove il 18 gennaio del 2017 persero la vita 29 persone intrappolate nell'hotel travolto da una valanga. La procura di Pescara vuole ribaltare la sentenza di primo grado per i 30 imputati giudicati con rito abbreviato che ha portato a 25 assoluzioni a tre condanne su tutte quelle dei funzionari della provincia di Incecco e di Blasio e del sindaco di Farindola Lacchetta. Le altre due condanne riguardano abusi edilizi sulla struttura in capo on tecniche al gestore. La procura aveva chiesto 26 condanne. I giudici della corte d'appello dell'Aquila dunque sono chiamati ad esaminare uno dei processi più importanti degli ultimi anni che ha coinvolto regione e provincia comune di Farindola, prefettura e persino la gestione dell'hotel. Un processo complesso racchiuso in 300 pagine di ricorso. Per i PM nessuno degli ospiti poteva immaginare quanto sarebbe successo di lì a poco. I temi sui quali pronunciarsi sono tanti, mancata realizzazione della carta valanghe, pulizia dell'unica strada di accesso, presunta responsabilità della locale prefettura. L'accusa contesta insomma pieno la sentenza di primo grado che si fonda sostanzialmente sulle dichiarazioni dei periti per i quali la valanga non era prevedibile quindi non ci sarebbero state condotte omissive da parte degli imputati. Per l'accusa invece il sindaco e la provincia hanno responsabilità ben precise di non aver impedito l'isolamento dell'albergo nei giorni dell'emergenza impedendo quindi alle persone di lasciare quella struttura. Il 13 dicembre ci saranno le conclusioni delle parti civili che non hanno presentato l'appello e partirà pure la discussione degli imputati appellanti.